gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia lo scontro è stato forte al consiglio europeo in questi quattro giorni uno scontro forte non solo metaforicamente ma anche realmente non sono volate parole grosse ma c'è mancato poco ma durante questi scontri ci sono stati anche dei momenti di leggerezza do you remember totti quindi e poi il gesto del cucchiaio come ai rigori nel mitico italia olanda del 2000 semifinale degli europei quindi resta il fatto che nelle pause dei negoziati si cercava di ridere perlomeno far finta di allentare la tensione tra la delegazione italiana e quella olandese quindi qualche spezzone così per alleviare un po la tensione quindi sorrisi un po così pacche sulle spalle ma senza esagerare anche perché voi sapete che al nord europa sono un po più freddi che noi appartenenti a quei paesi del sud europa in olanda il contagio intanto sta salendo e quindi ci sono anche dei problemi sotto quel fronte ma giuseppe conte parla del miglior risultato possibile c'erano sei scenari addirittura e questo era il migliore era il migliore anche perché ormai lo scenario dei 500 miliardi a fondo perso cioè regalato era tramontato era sceso a 450 poi a 420 poi a 390 i paesi del nord volevano scendere addirittura 150 questo di arrivare a 390 era lo scenario ormai migliore e soprattutto il fatto che nonostante i siano scesi del 22 per cento perché tra il 300 tra il 390 attuale dei soldi a fondo perduto e i 500 di prima praticamente sono scesi del 22 per cento questi fondi da elargire gratuitamente ai paesi però il fondo destinato all'italia questi soldi a fondo perduto e sono scesi di molto poco sono scesi di uno 0,4 per cento quindi l'italia ha mantenuto i soldi promessi regalati e addirittura quelli in prestito sono aumentati di ben 36 miliardi una coincidenza strana sono proprio quelli che servivano per il mess cioè che servivano che si volevano prendere nel mess dove c'è in italia la diatriba proprio tra mess sì mess no tra maggioranza all'interno della maggioranza nell'opposizione all'interno dell'opposizione quindi 36 miliardi in più come prestiti probabilmente avranno un tasso magari leggermente superiore a quello del mess che alla fine quello del mess era un 0,8 per cento quindi non arrivava neanche all'1 per cento negli anni quel tasso di interesse così basso avrebbe portato la restituzione dei soldi in negativo cioè alla fine si sarebbero restituiti sì i soldi in più ma con l'inflazione si sarebbe mangiato quel quelli in più e quindi si sarebbero restituiti alla fine meno soldi di quelli prestati proprio per l'inflazione e quindi l'italia sale a 127 miliardi in quei soldi prestati e attenzione fino a qualche ora prima dell'accordo si ipotizzava appunto che l'italia potesse perdere tra i 10 e i 15 miliardi a fondo perduto cioè che si passasse dagli 80 ai 65 63 miliardi quindi anche un un bel 17 miliardi in meno invece si è limitato a 400 milioni lo 0,4 per cento quindi fate conto che da 63 miliardi l'ipotesi praticamente si sarebbe appunto perso un 22 per cento dei soldi promessi a fondo perso in realtà in realtà qualcuno questi soldi li ha persi perché da 500 miliardi si è scesi a 390 per tutti i 27 paesi quindi una discesa più o meno del 22 23 per cento e si pensava che anche per l'italia ci fosse una discesa del 22 23 per cento invece c'è stata solo un meno 0,4 per cento e qui c'è l'ipotesi che nei colloqui bilaterali tra i paesi la Merkel e Macron abbiano detto agli altri paesi attenzione l'italia è il terzo contribuente dell'unione europea è la terza forza economica con più di due milioni di milioni di dollari di pill due milioni di milioni di dollari di pill e quindi avranno anche probabilmente detto attenzione che l'italia ha fatto prestiti enormi ed è già un paese con un debito altissimo questi soldi li hanno bisogno per ridurre il debito perlomeno si spera che li utilizzino bene che non li regalino per i monopattini le biciclette o chissà quante altre cavolate gli stanno venendo in mente adesso quindi mettetevi nei panni anche degli altri paesi alla fine hanno lasciato all'italia quegli 80 miliardi di soldi regalati che li prenda che diminuisca il debito speriamo che ne facciano un buon uso speriamo se vi mettete nei loro panni avranno detto cosa facciamo gli togliamo gli 80 gliene diamo 40 che se questi falliscono se l'italia fallisce come l'argentina che ci siamo ci siamo su quella strada lì il nostro debito al 170 per cento che va verso il 200 per cento non ho più sentito in europa dire che il nostro debito è ancora sostenibile perché ovviamente che non lo è ovviamente non lo è quindi avranno parlato nei colloqui a 2 a 3 dire attenzione dobbiamo sostenere l'italia perché qui c'è il rischio che l'italia diventi una nuova argentina e cosa facciamo poi con un fallimento dentro l'europa l'europa salta per aria salta tutto salta l'euro salta l'unione europea quindi non andiamo a perderci per 40 miliardi anche se sono tanti in un'economia dell'unione europea che è enorme formata da 27 paesi tra cui paesi economicamente molto importanti germania francia italia spagna un'europa che ha un pil che ha la pari di quello degli stati uniti quindi attenzione che si saranno parlati non commettiamo l'errore di far fallire l'italia perché poi sono cavoli ameri come diceva lino banfi sono cavoli ameri lo diceva in un altro a modo ameri americi ameri sono cavoli ameri sono cavoli amari se l'italia fallisce e quindi quindi è un diverso meccanismo di calcolo c'è stato proprio un diverso meccanismo di calcolo ma secondo voi come cavolo è venuto fuori un diverso meccanismo di calcolo che alla fine diminuiscono i soldi in regalo ma l'italia c'è sempre gli stessi anzi gli tolgono 400 milioni giusto per fargli vedere che che qualcosa è stato tolto anche a loro e ci sono 38 miliardi in più di prestiti e quindi alla fine c'è stato realmente un atteggiamento al finale positivo verso l'italia questo non lo possiamo non lo possiamo negare ma secondo conte la contropartita ottenuta dall'olanda non è un problema ma qual è la contropartita? la contropartita è praticamente quel meccanismo del freno è solo un qualcosa per farli contenti quel meccanismo finirà solo per dare all'olanda la possibilità di sollevare un dibattito politico che poi era quello che volevano ma senza fermare davvero l'erogazione dei fondi anche perché nella notte si è trattato per introdurre una clausola che consentirebbe di impegnare subito una parte dei fondi che verrebbero poi rimborsati retroattivamente funzionerà davvero per capire se sì o no dobbiamo aspettare che il meccanismo cominci a girare io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci